Grazie a tutti. 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 può essere imputato a nessuno tant'il n'y'a non di loi. Per tanto, dopo Adam fino a Moïse, la morte ha stabilito il suo regno, anche su chi non aveva peché per una transgression semblabile a quella di Adam. Or, Adam prefigure celui che deve venire, ma non aveva un don gratuito come di la faute. In effetti, se la morte ha frappato la multitudine per la faute di un solo, come più la grazia di Dio si è riposata in abondanza su la multitudine e questa grazia che è donata in un solo nome, Jésus-Christ. Le don di Dio e le conseguenze del peché d'un solo non hanno la même misura non più. D'una parte, in effetti per la faute di un solo, il giugno ha conduito a la condamnazione. D'altra parte, per una multitudine di fauti, il don gratuito di Dio conduit a la justificazione. Si, in effetti, a causa di un solo nome, per la faute di un solo, la morte ha stabilito il suo regno, combien più, a causa di Dio e di Dio e di lui solo, regneranno in la vita, i sui che ricevano in abondanza il don di la grazia che le rende justi. In effetti, in effetti, in effetti, che per la condamnazione di Dio e di un solo, in effetti, in effetti, in effetti, che per la disubblicità di Dio e di un solo, la multitudine di Dio e di un solo, la multitudine di Dio e di un solo, la luminositore di Dio e di un solo, la multitudine di Dio e di un solo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.